Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con la Nuzloc a Pokémon Smerato, sempre in compagnia di... Creepy Stories, buongiorno. Bene, che ci tornati dopo tanto tempo. Allora, nella scorsa parte Rocket aveva perso il suo primo Pokémon. Purtroppo sì. Purtroppo sì, io sto cercando di usare Surf, che tu ci credo o no. E niente, dobbiamo andare a SELCEPOLI, quindi parliamo con Marino. Parliamo con Marino e andiamo. Ok. Allora, no, ho sbagliato, ho fatto niente. Hai fatto Petalipoli? No? No, 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 ho fatto a nulla, per fortuna. Ok, vai con la barca. E andiamo, salpiamo i mari. È molto veloce questa barca. Eccoci qua. Sì, sì, sì. Sì, siamo già arrivati, velocizziamo tutti. È bellissimo il fatto che su quella barca ci può stare a malapena pico. Però ci sono due persone più pico. Sì, vabbè, fai niente. Allora, questo qua è sempre percorso 107, quindi non mi dicevi? No, 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 questo qua è un altro percorso, credo. È un altro, fammi controllare. Eh, prova a vedere, sì, io intanto comincio. È il 109, 109. Allora possiamo catturare un Pokémon perché abbiamo l'amo. Eh, vuole cominciare, vuole inaugurare le danze? Vado. Vada. Vadi. Cheat. Cheat. Ok, pesca pure. Abboccato. Vediamo cos'è. Signori, dal verso, dai. Oh. No, è una merda, aspetta. Yeah. Cicorita, è bellissimo. Attenzione, cicorita, adesso proviamo io. Oh, mamma mia. Godo. Subito, subito, subito una grande cattura. E io, io becco le ciabatte. Cos'è? A pare, il Rogat è il primo Pokémon, eh. Tira su, cattura la ciabatta. Due ciabatte di fila, attenzione. Ah, però cicorita è impossibile da catturare. No, eh, dipende. Lo puoi indebolire con qualcosa? Eh, sì, ma non posso indebolirlo più di così. Bella, abboccato, abboccato. Dimmi cos'è. Un KvTops, attenzione. Oh, buono. Buono, buono, dai. Se prendo cicorita faccio la combo degli starter di canto, sì, ma non lo prendo. Sì, prendi Toto, dai. C'hai Toto? No, non ce l'ho fatta, sì, non ce l'ho fatta. Vabbè, lo ammazzo. Ciao, è stato bello, conoscierti. Io ci vado di sfuriate con il mio sublay. Ok, Luke, io comincio a battere gli allenatori, ok? Dai, io ti raggiungo subito. Sì, dai. Ok. Questo c'ha uno Snorlax, mi sembra di giocare a Snakewood, veramente. Anche Snakewood è qua. Amnesia, tu, 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 morso. Però, però, non si fa catturare. Ah no, che idiota, morso in terza gene è speciale. Sì, sono tutti speciali, quel del buio, purtroppo. Allora, dai. Vediamo se adesso catturare questo Kabutops. Ma Kabutops o Kabutops? No. Kabutops, non Kabutops. Kabutops, le evoluzioni. L'evoluzione di Kabutops. Significata. Bello, bello. È bellissimo, mi piace un sacco. Sai che c'è una teoria che dicono che Genesect sia un Kabutops modificato, in realtà? Sì, sì. Non lo sapevo questo. Eh, sì, perché, tipo, nella descrizione di Genesect viene detto che un Pokémon vivente 3.000 anni fa che è stato modificato dal Team Plasma per essere più forte. Ah, quindi sì, potrebbe essere bellissimo un Kabutops modificato. Esatto, e quel Pokémon potrebbe essere Kabutops, perché alla fine se li guardi sono molto simili. Sì, è vero. È vero, quello è vero. No, no, non l'ho preso. Mi si era rotto il tasto invio sulla tastiera. Giuro, adesso l'ho rimesso a posto. Il bello della dieta, proprio, già. Sì, ma proprio. No, cazzo, battaglia in doppio, sono qui. Ah, brutta, in doppio. Insidiosa. Torkoal e Kingdra, merda. Sto per mancare la cattura. Ho solo più una Pokémon e non ci sta, purtroppo. Ah, peccato, perché è figo. Allora, ultimo tentativo, poi ciao, ci vediamo. No, 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 minchia, se m'avvelenava, se m'avvelenava. Io poi come venivo fuori? Sì, poi è un casino, ragazzi, purtroppo niente, Kabutops non ci sta. Ah, peccato. Via, via, via. Vabbè, tanto tu c'hai 106 Pokémon e non ho due. Sì, c'ho 4 Pokémon io alla fine. Eh, io ne ho due. Tu due, sì, è vero. Comunque adesso c'è la cattura al percorso di sopra, direi, prima di battere Magma e Hydro andiamo su a farla, che dici? Battiamo prima l'allenatore della spiaggia oppure tu hai già finito? Eh, no, no, io non ho ancora finito. Prima battiamo tutti quelli della spiaggia, poi prima di battere il team Hydro o Magma, che sia, cos'è, Hydro, Hydro? Mi pare Hydro al... Sì. A porto sul Cepoli. Andiamo di sopra e ci pigliamo il Pokémon, sperando di trovare qualcuno di un po' più decente e un po' più catturabile, soprattutto. Esattamente. Allora... Mmm... Cosa potevi fare? Niente. Ah, questa è la casa dell'acqua. Questa serve, sai perché? Devi entrare perché poi puoi averla gassosa, è utilissima. Ti dà un botto di bibita, in pratica, questa qua, limonata, limonata anche. No, solo... Solo gassosa? Solo gassosa, forse dopo limonata. Minchia Metagross. C'è qualcosa per contrastarlo, però, sì, perché c'hai qui, hai Totò. Vabbè, c'ho Totò, dovrebbe comunque resistere. Esatto, sì, resiste Totò. È un nostro duro. Poi sto bastardo, uso avviso Truce. Vabbè, ti abbasso solo la voce, Talma. Dai, tanto. Confusione, non mi fa niente. Ciao Metagross. E lo ara, così. Sì, è proprio fiero. La figarezza. Andiamo, Shocker. Amico di mille battaglie. C'è pure l'Ectabats, è vero? Sì, io sono loro due, però, minchia, sono dei signori Pokémon. Sì, ragazzi, io ho depositato la carpa magica perché mi aveva stancato la carpa. Eh, la puoi utilizzare come un elemento simbolico, fai. Sì, comunque l'ho catturata, ragazzi, è già un buon riconoscimento per catturare la carpa, dai. Ok, io batto questo Wishcash. Ok, battuto Ciambellino. Manca l'ultimo e poi... E' il nome più brutto di allenatore che esiste a Ciambellino, veramente. Groudon! Questo c'ha Groudon, oh! E cos'è un Ciambellino sempre? Ma va, no, questo è un marinaio. Ah, beh, ok. Groudon a caso. Ma c'è un Ciambellino, l'ho catturato sulla spiaggia, tipo. Fammi switchare Shocker, però. Vi sottruccia anche lui. Tanto io becco un marinaio con O, quindi i marinaio, attenzione, ma sono forti. Sì, marinaio con O, attenzione, i marinaio alla riscossa. I marinaio in questa puntata. Shottato Groudon. Sì, vabbè, shottiamo di pesante proprio. Vabbè, ma sì, ma perché siamo ultralivellati, ma giustamente essendo una Nazlock non puoi non essere ultralivellato, sennò perdi. Sì, sennò... Che stiamo a fare una Nazlock, ragazzi? Dovemmo un po' rivellarci. Eh, infatti. Ok. Io battuto tutti. a questa Nazlock, ma che da un pezzo. Fino al primo episodio. Ok. Forse ho battuto tutti. Sì, forse ho battuto tutti, sapete. Eh, la casa dell'acqua l'hai fatta. Ah, no, eccola qua. Infatti mi scordo sempre qualcosa, eh. È indispensabile quella, perché ti dà un botto di roba. Sì, è vero. Sei, sei gastose, minchia, ti fai... Allora, pozziona. Mi mancano sti due allenatori, mettiamo davanti i shocker, che è tosto sto per morire. A me manca solo la casa e poi siamo a posto. Comunque, sai che forse possiamo anche fare la cattura pescando a Selcepoli? Non c'è un posto dove puoi pescare a Selcepoli. Sì, se non usi surf non c'è. Puoi farla dopo, la cattura. Mi pare che prima di entrare al mercato c'è un pezzo di acqua dove dice già Selcepoli, eh. Adesso proviamo. Dici? Adesso proviamo, sì. Proviamo, proviamo. Eh, sarebbe utile come cosa, direi. Ok. Sì, esatto, proviamo, tanto non ci costa niente. Eh, infatti, tanto siamo qui, cioè, nel senso. Esatto, ok. Olè. Ultimo, per me, guarda, ultimo bimbo. Sì, ultimo c'è un bel dino, quelli lì. Sì, sì, l'iron a caso. Casaccio. Oddio, l'iron è di tipo terra o di tipo roccia? Mi pare roccia-acciaio, se non dico cavolate. Sì, esatto. No, perché sennò tu uno pugno non aveva effetto. Eh, no, 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 in tipo terra non c'era l'iron. Suina, beh, di tipo terra invece. Terra ghiaccio, sì. Uh, intanto un ciambellino con salamence. Pesante. A caso. Ti va giù pesante. Certo. Forse hai ragione. È vero? Hai ragione, sì, sì, si può fare la cattura. Ok. Quindi io la faccio subito, se... Sì, intanto io batto questo salamence e poi arrivo, dai. Tu fallo, intanto. Vediamo chi riesco a trovare, Raya. Ah, no, 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 io non ho Pokéball. Ok, minchia, mi son ricordato. E manco io c'ho Pokéball, eh. Quindi? Devo andare a prenderla sul ceboli, aspetta. Mi son ricordato di non ho premuto... Non ho premuto, ah, minchia, che culo. Che culo, ragazzi. Ci è andata bene per stavolta. Ok, io intanto mi prendo un po' di Megaball, così. Sì, io prendo... Gli faccio un po' di spesa a caso, tipo repellenti. Adesso, dammeli. Dammeli tutti. Ok, io... Sì, prendo anche un po' di pozioni, dai, non si sa mai. Sì, sì, infatti. Allora, comincio a curarmi. Pure io. Perché poi possiamo andare anche a Nord a fare la cattura e poi, vabbè, facciamo fuori il timidro molto velocemente e concludiamo. Esatto, concludiamo la parte, questa sesta parte. Bene. Io vado a fare... Vado verso... Il pezzo d'acqua di Porta Salcevoli. Esatto, sì. Avevi ragione, minchia, non lo sapevo, sta cosa. Sì, c'è sto piccolo pezzo che... Vediamo chi viene, dai. Vai pure, vai prima te, dai. Dai, dai, dai. Andiamo. Sapdos, vabbè. Cioè, nel senso, io lo ammazzo, non ci provo neanche. Io, dai, ci provo, dai. Vediamo cosa esce. Anche perché non lo userei, c'ho già Shocker. Sì, sarebbe inutile. Ok, abboccato, vediamo un po', vediamo un po'. Dai, io ti aspetto qua, così andiamo a fare la prossima cattura insieme. Execute, ho beccato io. Execute? Execute, sì, le uova. Eh, può essere buono, eh. Ce n'hai già uno di erba? Eh, no. Eh, no, no, c'ho Bulb. C'ho Bulb, eh, inutile. Eh, no, allora niente. Se ragazzi io lo ammazzo. No, sento. Sì, sì, ammazzo, lo ti conviene. Tanto uso, attacco pioggia. Ah, guarda dove si poteva fare la cattura, minchia. Dove? Qua. Che idioti. Ma che facciamo adesso? C'è tipo, dove c'è il porto? Eh. Adesso andiamo a nord e catturiamo lo Pokémon qua. Dove c'è il porto, dici? Ma si può andare anche sopra? Eh, sì. Sì, sì. Sì, qua. Sì, in che senso sopra? Percorso 110, certo. Ah, ok. Sì, 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 bella, bella. Catturiamo? Facciamo, facciamo lo cattuoli, vai. Apri le danze. Pigeot, figata. Bella, madonna, grande. Vediamo io. Ho cosa di buono, si spera... Oh, cavolo. Azzuril, ma no. Azzuril, no. Che merda. Vabbè, comunque a zoomeril con il rotolamento può essere pericoloso, dai, quindi... Sì, vabbè, prendi... Ma ne hai uno di acqua? Eh, no, uno d'acqua, avevo la carpa magica. Ma forse... Eh, allora vai, prendilo. Fortunatamente è scarsa come... Come non so cosa, quindi... Ok. Preso Pigeot, grande, terzo membro. A meno c'è qualcuno per volo. Ok, soprannome. Non l'ho dato, c'è il giudice, che culo. C'è il giudice in c... Ma ragazzi, quest'oggi abbiamo tanto culo. No, sfuriato. Uso sfuriato. Ho cliccato B al posto di A, geniale proprio. Ho mandato appena K. Azzuril. Maledetto. Allora, soprannome per Pigeot. Soprannome per Pigeot. Come puoi chiamare un Pigeot? Non ne ho idea. Ci vediamo sul difficile. Eh, Pigeot. C'è quella cresta. Boh, un Pigeot. Allora, boh, è un Pokémon che usano tutti. Sì, esatto. Tipo, cazzo ne so io. Raptor, una roba del genere. Cioè, non so. Boh, hai presente tipo... Air France? Sì. Ecco, Air Canto, cazzo. Cazzo, devo fare. Sì, chiamalo così, dai. Adesso quando non è così a casa, ci sta, ragazzi. Air Canto. Air Canto. Air Canto sì, allora. Ok, io ho finito. Se anche tu ci sei, andiamo a battere il timidro. Sì, perché assolutamente ho ucciso quella Zulil, poveraccio. Eh, vabbè. Allora. Tanto, ne troverai di meglio, non è difficile. Ne troveranno tanti di meglio. Allora. Allora, premetto che io voglio fare un appello alla Game Freak contro questa cosa qua che non ha senso. Cioè, io devo parlare prima con sto tizio e poi va via il timidro misteriosamente. Io da piccolo ci mettevo anni. Per cercare il tipo che sbloccasse tutto. Sì, infatti. Adesso non c'è più nessuno, così, a caso. Capita il remo, ok, ah sì, ok. Adesso mi sono rimasto dentro a leggere i dialoghi. Intanto bisogna pagare i 50 poche per entrare in questo museo. Sì, ladrata. Ladrata. Ah, aspetta, qua c'è tipo uno che ti dà furto. Sì, esattamente. Infatti lo sto prendendo. MT46. Le hai randomizzate, no, vero? No, no, no. Le metti e non le ho randomizzate. Ok. Purtroppo abbiamo furto, sempre. Oh sì, purtroppo, infatti. Stavo dicendo io. Perché tipo la venderemo al prossimo market, ma vabbè. Ma se tipo provassi a mettere davanti Aircanto, dici che le busca subito? Che livello ha? 13. Dipende a che livello... Ah, io lo metto davanti, però al massimo lo torco. Al massimo switch. Infatti. Metti che mi viene fuori un odd e ce l'ammazzo. Lo ammazzo, appunto. E ti becchi un po' di esperienza, dai. Infatti. Ok, vai. Il primo ha... Vediamo. L'Athias, dai, certo. Eh, vabbè. Il primo da me c'ha Espeon, quindi top stick. Oddio. È bellissimo lo sprite di Pidgeot nella... In... In Smeraldo. Sì, è carino. Mi piace. Secondo me non mi ricordo come è fatto. Per quanto mi ricordo quello di Lost Walk of the Foglia, che c'è giocato un bot. Eh, sì, vabbè. Quello lì è storico, però anche quello qua non mi dispiace. Deve essere tipo con le ali aperte, no? O no? No, no. È con le ali chiuse. Ah, ok. Allora, ho sbagliato tutto. Rischio. Rischio di creepy. Mamma mia, ho rischiato di perdere Shocker, eh. Subito? Ah, Shocker. Eh, perché ha fallito Psiconda. Ahia. Ok, io batto la seconda intanto, eh. Sì, sì. Anch'io sono a battere la seconda. Che ha... Nidoqueen era mia. Uh, è le Kid. Ah, bene. Quindi un Pokémon familiare, eh. È abbastanza, direi. Molto familiare. Allora, spero che Nidoqueen non ci abbia tipo, non so, qualche mossa terra. Nidoqueen mi ricorda qualcosa. Spoiler. Oh, cavolo, no. Capirete, forse, tipo, verso settembre. Sì, sì. Non sui nostri canali, ma facciamo silenzio per ora, perché se no... Non facciamo spoiler perché, veramente, ci sarà da ridere, ragazzi. Eh, assolutamente. Ok. Io ho dato battuto la re... No, no, ma innamorato. Mi sono innamorato di Jiggy Bluff. Si può? No, non puoi. Intanto io imparo foglie lama. Bella. Buono foglie lama, buono, buono. Per bulbo. Ok, io ho finito, vi velocizzo tutto, ci troviamo fuori e concludiamo. Bella, sì, esatto. Io, sì, Ivan, facciamo che parli, Ivan, tanto non ci interessa. Sì, sì, facciamolo parlare, intanto lo stiamo ascoltando tantissimo, mi dico. Sì, stiamo velocizzando solo, bella. Ok. Vabbè, ma la Nuzlocke deve essere così, cioè. Sì, cioè, se fosse un Let's Play normale, allora sì, un Conte, ma così no. Ah, Scott c'è fuori, è vero. C'è Scott? Eh, è vero, guarda qua. Scott che tanto non... È inutile, perché tanto poi è finita la lega, noi stoppiamo chiaramente. Non è che in una Nuzlocke ci mettiamo a fare il parcolotta. Magari ce lo facciamo, tipo, da soli. Da soli, magari. Rattomizzato, mi chiediamo. Ti puoi arrivare lì, c'è l'allenatore prima del boss che arreggiai, se poi il boss c'ha PJ. Ci andiamo a prendere i simboli del parcolotta, ma no, che epici, che epici che erano. Ma se poi possiamo fare degli extra se ci abbiamo sbatta. Sì, esatto, se vogliamo voglia. Vieni davanti al centro Pokémon che concludiamo. Sono al centro Pokémon e ando fuori. Perfetto, allora concludi. Bene ragazzi, quindi per questa parte direi che abbiamo fatto tanto, abbiamo concluso. Quindi, ci salutiamo, lasciate come sempre un mi piace, iscrivetevi ai canali, commentate. E noi, ovviamente, ci vediamo in un prossimo video ragazzi. Bye bye. Ciao a tutti.